ciao sono nicola fasoli e ti do il benvenuto nel videocorso logic pro 10 mix e mastering in questo corso mi concentrerò sulle funzioni avanzate di logic pro in particolare sul mix ed il mastering di diversi brani in differenti generi musicali inizierò con l'importare le pace ed organizzare il progetto per il mix ti mostrerò come funziona il mixer il percorso del segnale come utilizzare i gruppi ed i submix e come sfruttare al massimo le mandate effetti send return ti farò vedere come funzionano gli equalizzatori i compressori riverbero e delay e come implementarli per dare profondità e chiarezza al tuo mix vedrai come utilizzare gli effetti tipici della musica moderna pop ed elettronica come ad esempio il side chain e la compressione parallela oltre a molti suggerimenti per mixare batterie e voci dei tuoi brani poi analizzerò la configurazione dei channel strip e come utilizzare le automazioni per mixare il tuo progetto infine ti spiegherò come creare il mastering perfetto l'analisi dello spettro stereo della fase quali plugin utilizzare e come configurarli oltre a svariati metodi per ottenere il massimo dalle tue produzioni sei pronto scopri tutto nel video corso logic pro 10 mix e mastering